benvenuti a tutti proseguiamo la nostra scalata nel cuore della metafisica aristotelica prima di fare ciò ricordo che una buona guida che può introdurre credo in modo agevole ma anche con un certo rigore allo studio della metafisica non solo aristotelica è questo libretto che ho scritto metafisica edito da mursia metafisica ho scritto di recente anche un altro testo che si intitola sette esercizi spirituali sempre dedicato alla questione metafisica declinata anche su un piano storico filosofico mentre la metafisica è più per temi inoltre ricordo che se vi abbonate a questo canale trovate numerosi decine e decine di video dedicati proprio alla questione della metafisica platonica e cristiana video riservati solo agli abbonati al canale bene fate queste premesse continuiamo con il nostro aristotele faccio la solita condivisione dello schermo ecco qui abbiamo detto che in qualche modo aristotele aristotele intende la metafisica in tre declinazioni metafisica come scienza delle cause prime generalissime in particolare ciò viene fatto in lambda e ne abbiamo parlato poi parleremo successivamente della metafisica intesa come scienza dei principi primi e generalissimi del parlare del pensare del ragionare e di ciò se ne occupa principalmente in gamma nel quarto libro della metafisica mentre adesso ci tocca parlare della metafisica nel suo versante squisitamente ontologico cioè come scienza della sostanza dell'ente in quanto ente e abbiamo già anticipato la metafisica intesa come scienza della sostanza cioè di ciò che sussiste di per sé che separato che per aristotele non vuol dire trascendente ma vuol dire sussistente di per sé e quindi in qualche modo libero di giungere alla sua essenza il suo fine ebbene la metafisica intesa come scienza della sostanza come ontologia viene studiata ad aristotele principalmente in tre punti della sua opera che mi sembrano essere quelli più densi su un piano ontologico le categorie che vediamo oggi fisica 1 e metafisica 7 partiamo appunto dalla metafisica come scienza della sostanza nelle categorie dunque nelle categorie la sostanza è studiata su un piano logico o forse sarebbe meglio dire grammaticale infatti le categorie sono un libro dell'organo sono il primo libro della logica di aristotele e noi sappiamo che la logica è esterna al sistema del sapere il sistema delle scienze la metafisica è una scienza la logica è in qualche modo propedeutica è fondativa infatti c'è sempre questa ambiguità tra logica e metafisica la metafisica è il sapere fondativo è la scienza prima ma al contempo la scienza prima che si occupa delle prime cause dei principi primi del conoscere eccetera in realtà deve già utilizzare la logica e quindi in qualche non si capisce mai chi viene prima c'è una corsa all'essere fondamento tra la logica e la metafisica in questo caso addirittura le categorie primo libro della logica sono un testo di metafisica che trattano la sostanza su un piano logico ebbene dice aristotele nelle categorie la sostanza prima così si esprime cioè ciò che primariamente è il nostro punto di partenza sia ontologico sia conoscitivo la sostanza prima ciò che primariamente esiste è il soggetto del giudizio su un piano grammaticale il soggetto del giudizio cioè su un piano ontologico è l'oggetto è l'individuo il certo questo il questo qui il questo qui del quale peraltro non si può dare scienza non possiamo avere scienza dell'individuo è troppo complesso ecco in qualche modo il punto di partenza il punto di partenza sia del reale sia del conoscere è l'individuo sostanza prima platone per aristotele compie l'errore di scambiare il predicato del giudizio per l'oggetto cioè per il soggetto del giudizio infatti se noi diciamo socrate è uomo per aristotele la sostanza prima è socrate è perché entro in contatto con un uomo individuale per esempio socrate che posso trovare per astrazione l'umanità ma il primo la sostanza è socrate il predicato è una proprietà che dipende dalla sostanza prima mentre per platone quando dico socrate è uomo il la sostanza è il predicato uomo è perché prima ho già conosciuto l'uomo perché prima c'era l'idea di uomo che posso imbattermi nell'individuo socrate fondativo al predicato c'è in qualche modo in platone una sostantivizzazione del predicato viene data maggiore importanza del predicato rispetto al soggetto alle note piuttosto che al corpo del testo ecco invece per aristotele al contrario il punto di partenza è il soggetto del giudizio cioè l'oggetto reale l'individuo sostanza prima questo viene affermato nelle categorie però ci sono i predicati e sono importanti anzi tutte le categorie poi si occupano dei predicati anche perché abbiamo detto che della sostanza prima non si può avere scienza ecco e quindi ci si concentra sui predicati ora i predicati possono essere i due tipi ci sono predicati che possono essere sia soggetto sia predicato del giudizio oppure ci sono predicati termini che sono solamente predicati cioè che non possono mai essere soggetto del giudizio cioè non possono mai essere specie sottinsieme di un genere più ampio allora se da una parte ciò che non può mai essere predicato ma che è solo soggetto cioè il punto di partenza questo è la sostanza prima ciò che non può mai essere soggetto ma che è sempre predicato cioè non può mai essere sottinsieme di un insieme più ampio questa è la categoria il genere sommo il genere massimamente steso e poi c'è tutta una zona intermedia di termini che possono essere sia soggetto sia predicato facciamo degli esempi in realtà è molto semplice a capire questa cosa ecco qui abbiamo socrate la sostanza prima socrate non può mai essere predicato o meglio può essere predicato solo di se stesso cioè questo è un giudizio dove la è è un'identità socrate è identico a socrate questa è la sostanza prima è l'individuo è il punto di partenza mentre se dico socrate è uomo qui abbiamo l'individuo socrate sostanza prima che non può che essere soggetto e poi abbiamo uomo un predicato che è una classe uomo è una classe ma non è una categoria perché perché la categoria può essere solamente predicato mentre uomo che in questo caso è predicato appunto è una classe della quale socrate della quale socrate la sostanza prima appartiene uomo però può essere posto anche come soggetto cioè come insieme che è contenuto che è incluso in un insieme più ampio uomo è animale ecco qui se prima uomo era in posizione di predicato socrate è uomo adesso uomo è in posizione di soggetto uomo è animale infatti animale è un insieme più esteso degli uomini dell'insieme degli uomini e quindi uomo non può essere una categoria e animale animale può essere anche soggetto beh sì posso dire animale è sostanza seconda quando aristotele parla di sostanza seconda intende l'essenza e l'essenza è una categoria che contiene l'insieme degli animali che contiene l'insieme degli uomini che in ultima istanza contiene l'individuo socrate sostanza prima ma la il predicato sostanza seconda cioè l'essenza è una categoria perché non è sottinsieme di un insieme più esteso è un insieme massimamente esteso le categorie sono questi grandi scatoloni questi grandi insiemi che contengono ogni cosa e che quindi servono per ordinare il mondo ma che non sono contenuti in nulla ecco c'è da dire che dopo aristotele soprattutto nel mondo medievale è stata posta una distinzione tra le categorie e i trascendentali allora andiamo con ordine abbiamo detto che sostanza seconda animale sostanza seconda la sostanza seconda è una categoria e le categorie appunto sono insiemi massimamente estesi sono questi grandi scatoloni nei quali ordiniamo l'universo un po come quando in soffitta dobbiamo fare ordine in uno scatolone mettiamo i libri vecchi in uno scatolone mettiamo i vestiti vecchi eccetera eccetera ci sono diverse categorie no quantità qualità dove quando agire subire relazione sostanza seconda cioè senza eccetera eccetera aristotele ce ne dà elenchi differenti eh elenchi differenti questo è il punto servono per fare ordine per esempio se dico socrate è uomo uomo verrà messo nel grande scatolone della categoria della sostanza socrate è maestro di platone categoria della relazione socrate sta al mercato categoria dove alle 5 del pomeriggio categoria quando socrate è pallido categoria qualità socrate pesa 80 kg categoria quantità eccetera eccetera effettivamente è stato notato che questi grandi scatoloni queste categorie in realtà possono essere contenute in scatoloni ancora più ampi cioè di ogni categoria posso dire che è quindi posso dire la quantità è oppure uno la qualità è uno ecco questi predicati ancora più ampi delle categorie che attraversano le categorie essere uno eccetera sono chiamati predicati trascendentali tuttavia ad aristotele i trascendentali non interessano perché le categorie servono per fare ordine servono per compilare un catalogo del mondo per distinguere invece i trascendentali sono proprietà che attraversano tutte le categorie e che si predicano di ogni cosa allo stesso modo cioè di ogni cosa da dio al predicato è gatto c'è sempre la predicazione è essere è uno vabbè ma non ci serve a far nulla e quindi non hanno senso sono qualcosa di talmente inclusivo da essere del tutto insensato un po' come lo sguardo di di funes di borges che vede tutto e per questo non vede nulla sostanzialmente ecco un'altra grande questione del discorso aristotelico è questa le categorie sono ricavate attraverso una massima forma di astrazione di induzione parto dalle sostanze prime agli individui e ricavo questi grandi scatoloni in modo induttivo in modo induttivo il punto qual è che l'induzione è qualcosa che è un è un ragionamento in cui la conclusione non è conseguenza logica delle premesse no cioè l'induzione non è mai qualcosa di definitivo compiuto assolutamente oggettivo dico tutti i cigni sono bianchi non è escluso che un giorno non nasca un cigno color viola voglio dire ecco e per questo in qualche modo derivare le categorie in modo induttivo significa derivarle in modo rapsodico di raccante contro aristotele e forse sarebbe meglio cercare una deduzione delle categorie che non sia induttiva che non sia frutto della mera esperienza però per aristotele questo non è un problema nel senso che se trovassimo una proprietà che non una proprietà di un individuo di una sostanza prima che non rientra nelle nostre categorie ne istituiamo un'altra ma istituirla per aristotele non vuol dire cadere nel soggettivismo cioè se una proprietà cade in un'altra categoria che dobbiamo istituire è perché quella sostanza prima che è reale ha quella proprietà e quindi quella categoria che istituiamo per induzione ha un fondamento sulla realtà sulla realtà cioè le categorie non sono arbitrarie sono una istituzione che parte dalla realtà dalla sostanza prima e quindi sono un modo per ordinare su un piano insieme mistico la realtà e quindi sono un articolazione che trova fondamento sulla realtà sulla realtà stessa quindi sono un modo per andare alle cose stesse le categorie non sono un mero così un mero una mera creazione artificiale assioma di aristotele tutto questo discorso sulle categorie si fonda sulla sioma di aristotele allora dice aristotele tutto ciò che c'è si dice in molti modi quali sono i molti modi le categorie ma sempre in relazione a qualcosa di unico cioè la sostanza prima cioè il mondo è fatto di sostanze prime ma io la sostanza prima devo sempre dirla in un certo modo questo certo modo ricadrà sempre in una certa categoria se vedo socrate dirò socrate è bianco è uomo eccetera eccetera anche se dico socrate se stesso in fin dei conti socrate se stesso ricade sotto la categoria della sostanza seconda cioè dell'essenza quindi l'individuo io lo devo sempre prendere per spicchi per lati e questi i molti i molti sono le categorie e che cosa dice la sioma di aristotele che da un lato la sostanza prima la devo sempre prendere per una certa categoria quindi per universali ma al contempo l'universale trova sempre fondamento nella realtà cioè nella sostanza prima cioè vuol dire che se io dico un universale questo universale dovrà denotare un individuo reale non è possibile avere una categoria che non abbia il suo fondamento su quell'individuo a partire dal quale io o qualcuno hanno hanno derivato l'universale cioè a sioma di aristotele vuol dire che dato un insieme questo insieme dovrà contenere almeno un elemento cioè non può essere un insieme vuoto proprio perché i predicati gli universali sono dipendenti dalla sostanza prima e quindi derivano dalla sostanza prima quindi se c'è l'universale ci dovrà essere anche l'individuo a partire dal quale quell'universale è stato ricavato scrive appunto aristotele nelle categorie se dunque non esistessero le sostanze prime sarebbe impossibile che esistesse qualcuna delle altre cose cioè i predicati e quindi in ultima istanza le categorie andiamo avanti ecco qui c'è un'altra distinzione importante da fare tra predicamenti e predicabili ora le categorie questi insiemi generi sommi di predicati prendono anche il nome di predicamenti predicamenti che non sono da confondere con i predicabili i predicabili sono una un'introduzione porfiriana se i predicamenti aristotelici le categorie sono questi generi sommi i predicabili porfiriani porfirio era un grande autore neoplatonico grande conoscitore di aristotele i predicabili porfiriani sono i modi in cui un predicato può predicarsi di un soggetto cioè in qualche modo sono concetti di concetti cioè ho un predicato e il predicabile mi dice come è il predicato quel predicato è genere genere è un predicabile specie differenza specifica la dico socrate uomo posso dire poi uomo è genere cioè mi dice il predicabile come si predica un certo predicato della sostanza prima allora i predicabili sono cinque il genere e la specie quindi c'è un rapporto di inclusione no la specie il sottinsieme del genere differenza specifica no dirà platone la differenza specifica è quella differenza che mi permette di separare un insieme in due sottinsiemi cioè di ricavarmi la specie di agire come il buon macellaio che taglia la carne seguendo nelle articolazioni dirà platone ecco ed è interessante perché da questo rapporto genere specie differenza specifica mi ricavo le essenze mi ricavo le essenze infatti l'essenza di una certa specie si ricava mettendola in relazione con il genere più la differenza specifica qual è l'essenza dell'uomo è quella di essere genere animale più differenza specifica razionale ecco è così semplice capire le essenze soprattutto le essenze prima che riguardare un universale come uomo riguarderà un individuo e siamo sicuri che l'essenza dell'uomo socrate è uguale all'essenza dell'uomo platone la grande questione sulle essenze quarto predicabile accidente se l'essenza è quella proprietà che se viene meno viene meno la sostanza prima cioè se socrate smette di essere uomo non è più socrate ma diventa un'altra sostanza prima un cadavere l'accidente è quella proprietà che se viene meno la sostanza prima non viene meno se socrate si taglia la barba rimane sempre socrate infine l'ultimo predicabile il più misterioso è il proprio il proprio proprio una sorta di via di mezzo tra l'essenza e l'accidente per questo è interessante perché ci fa capire che non è così semplice distinguere tra essenza e accidente no il proprio è quella proprietà che riguarda tutti e soli gli elementi di un insieme ma non è essenziale ma non è essenziale è abbastanza strano tutti e soli gli uomini hanno la capacità di ridere ma se esistesse un uomo che non ride mai per tutta la sua vita non smetterebbe di essere un uomo quindi riguarda tutti e soli gli elementi di una specie come l'essenza ma è accidentale questo è il proprio il proprio bene abbiamo a questo punto la grande questione molto complessa della indifferenza quantitativa dell'essenza secondo le categorie di aristotele l'essenza cioè la sostanza seconda è un universale anzi è un genere sommo quindi è un universale particolarmente esteso massimamente esteso mentre la sostanza prima è l'istanziazione dell'essenza cioè l'individuo l'individuo in qualche modo quando una certa essenza va ad occupare una una porzione di spazio di tempo cioè di materia e quella è la sostanza prima e c'è una priorità della sostanza prima rispetto all'essenza dice aristotele contro platone in realtà aristotele non fa mai riferimento alla materia nelle categorie questione materia forma viene introdotta in fisica 1 d'altronde nelle categorie stiamo in un orizzonte prettamente logico quindi sarebbe improprio introdurre per delineare la sostanza prima materia e forma nelle categorie che sono un testo logico ma giusto per capirci quindi per aristotele c'è l'essenza che l'universale che si ricava dall'individuo che è particolare la stioma di aristotele dice che se c'è l'essenza c'è l'individuo però sono due cose diverse in qualche modo l'essenza è l'universale e poi c'è l'essenza che esiste come individuo che è la sostanza prima per avicenna invece non c'è questa separazione non è che l'essenza è universale mentre la sostanza prima è l'individuo non è che la sostanza seconda è l'universale la sostanza prima è l'individuo per avicenna infatti universale e particolare universale e individuo sono due modi di esistenza due intenzioni dell'essenza che di per sé è solamente essenza no è ciò che poi con una formula scolastica si dirà equinitas est equinitas tantum cioè l'essenza di cavallo non è l'universale di furia di quel cavallo lì ma sia l'universale cavallo sia quel cavallo lì sono due modi di esistere della medesima essenza che di per sé non è né individuo né universale ecco questa era un po' la questione avicenniana che rompe la la separazione tra l'universale e l'individuale tra l'essenza universale e poi l'individuo e che va a porre a tema la grande questione per la quale l'essenza possono esistere come individui o come universali e quindi possiamo parlare anche di essenze individuali e quindi non è che l'essenza è l'umanità ma l'essenza potrà essere anche l'uomo socrate cioè ci possono essere essenze individuali effettivamente aristotele la fa facile no nelle categorie nell'appiattire tutti gli uomini ha medesima essenza ma è proprio così ecco per non parlare del fatto che le essenze vanno storicizzate nel senso che se per aristotele l'essenza degli uomini era di essere animali razionali per un cristiano l'essenza degli uomini è quella di essere creature divine che sono cose ben diverse ecco quindi questi sono grandi problemi ecco un'altra cosa molto importante dice dice aristotele nelle categorie che bisogna fare una sorta di matrice per comprendere tutti gli enti cioè tutti gli enti possono essere possono rientrare sotto quattro macro gruppi ci sono gli enti che si dicono di un soggetto gli enti che si dicono di un soggetto sono quelle proprietà della sostanza prima che sono essenziali cioè quelle proprietà che se vengono meno viene meno la sostanza prima per esempio l'umanità di socrate poi ci sono gli enti che sono in un soggetto e questi sono gli accidenti poi ci sono quegli enti che possono essere sia essenze sia accidenti cioè possono sia dirsi di un soggetto sia essere in un soggetto infine ci sono quegli enti che ne sono in un soggetto ne si dicono di un soggetto e questi appunto sono i non predicati cioè le sostanze prime il fondamento del reale ecco tra le categorie la categoria della sostanza seconda raggruppa gli enti che si dicono di un soggetto mentre tutte le altre categorie raggruppano accidenti cioè raggruppano gli enti che sono in un soggetto mentre la sostanza prima è ciò che appartiene a qualsiasi insieme ma che non è insieme perché è il fondamento è ciò a partire da cui si ricavano gli insiemi l'individuo questa è la questione la prossima volta ci toccherà parlare di un altro snodo molto interessante che è sempre la questione della sostanza questa volta però non più in categorie bensì in fisica 1 e qui entreranno in gioco le nozioni di materia di forma di sostrato eccetera eccetera grazie per l'attenzione a presto